Uscire da Babilonia, uscire da una mentalità pagana in cui noi ci troviamo, da un modo di sentire mondano in cui ci troviamo, da un modo di agire come gli altri uomini di questo mondo. Non siamo come gli altri uomini di questo mondo, i quali esistono i nostri fratelli, perché anche essi chiamati a divenire corpo mistico di Cristo, ma non possiamo vivere come gli altri uomini. Sentirci come gli altri uomini. Noi siamo morti al mondo, siamo morti al peccato. Noi, in quanto uomini, siamo dei morti. È Cristo che ci ha dato una vita nuova e dobbiamo vivere secondo questa vita nuova in Cristo. Per cui il nostro modo di vivere non può più essere il modo di vivere di Babilonia, del mondo in cui viviamo. Perverso e pervertitore, ma siamo cittadini del cielo, con cittadini dei santi, familiari di Dio. La nostra vita è la vita del figlio di Dio in noi. In Lui siamo diventati figli di Dio. E il codice di comportamento non è quello scritto dagli uomini, ma il codice di comportamento è quello adottato dal figlio di Dio, il codice di Cristo, quello che vige nel corpo di Cristo, nello stato di Cristo, nel regno di Cristo. Non possiamo vivere secondo il codice di un altro regno, qual è il regno del mondo, ma secondo il codice del regno di Cristo. Formarci un'altra mentalità, quella di Cristo, un altro sentire, quello di Cristo, perché saremo giudicati secondo il codice di Cristo, non secondo il codice del mondo. La nostra vita deve mutare radicalmente nella mentalità, vedere in altra maniera, con gli occhi di Dio, misurare le cose con gli occhi di Dio, sentire col cuore di Dio, agire in forza di un'operazione messa dentro di noi, l'operazione del suo santo spirito. c'è tutto da cambiare, per cui non basto così un atto di penitenza, una spustatina di acqua, un labile proposito di migliorare, no, qui bisogna andare a un cambiamento radicale, altrimenti periremo tutti. La Madonna Fatima, oggi 13 maggio, dice convertitemi, 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 che significa cambiate, 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 cambiare mentalità, la testa, cambiare la testa, cambiare il cuore, cambiare il modo di vivere, non possiamo più vivere come vivevamo prima, come vivono gli altri, che differenza c'è tra noi e gli altri nel modo di vivere, nessuna differenza. tra noi e i popoli che non credono in Cristo, tra un cinese, un giapponese e un italiano, nessuna differenza, né nella mentalità, né nelle mode di esprimersi. Siamo di questo mondo e dobbiamo uscire da questo mondo, noi che siamo i concittadini del cielo, i familiari di Dio, i morti a questo mondo, i rinati a vita nuova, finché non acquisiamo questa coscienza di essere popolo nuovo, popolo sacerdotale, gente eletta, siamo ancora come prima, non abbiamo mutato nulla, né siamo mutati noi, né muteremo il mondo, invece siamo chiamati a mutare noi e a mutare il mondo, perché il cristiano è l'anima del mondo, è il fermento del mondo. Una donna ha preso tre staie di ferina e vi ha messo il lievito e è incominciata a impastare finché tutta la massa fu fermentata. La Madonna è questa madre di cui parla il Vangelo, che prende tre staie di farina nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tutta la massa umana e mette il fermento della grazia, il fermento di Cristo, il fermento dello Spirito e la impasta, perché tutta si rinnovi. Ma questo fermento che siamo noi, siamo un fermento inattivo. fratelli e sorelle, oggi la Madonna ci chiama a un cambiamento di vita, commentitevi, cale Babilonia, è destinata a perire Babilonia, la grande prostituta che ha sedotto tutta la terra. Tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sprenata prostituzione. Il re della terra si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sprenato. E allora uscite, uscite popolo mio da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi fratelli, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Guai, guai immense città, Babilonia possente in un'ora sola è giunta la tua condanna. Guai, guai immense città, del cui lusso arricchirono quanto aveva le navi sul mare. Io, popolo mio, esci da Babilonia, esci da Babilonia per non essere coinvolta nella sua rovina. Fratelli e sorelle, questo è il grido che viene da Dio oggi per Bocca di Maria. Cambiare, 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 cambiare la spruzzatina d'acqua non fa niente. Cambiare la testa, cambiare la testa, cambiare il cuore, cambiare il modo di vivere radicalmente. Essere diversi dagli altri, diversi dagli altri. Siamo figli del regno, figli della luce in mezzo ai figli della tenebre. Quale comunanza c'è tra Cristo e Veliar, tra i figli della luce e i figli della tenebre. Eppure noi ci mimetizziamo, ci confondiamo, non ci distinguiamo più. Noi popoli di giuste, col popolo dei peccatori. Chiediamo al Signore questa mattina che qualcuna di queste parole scende in profondità. E che questa parola pronunciata da Maria, convertitevi, questa parola pronunciata da Gesù, cambiate, cambiate. Questa parola pronunciata dai Santi, liberatevi dalla vostra mentalità. Dal vecchio uomo, è rivestito l'uomo nuovo, creato secondo giustizia e verità. Questo richiama vivere il Vangelo del Signore. Risuoni nel nostro cuore e cambi radicalmente la nostra vita. Oh Signore, noi leghiamo a questo rito dell'acqua, questo rito che viene da te, viene da Maria nostra madre. Serva questo rito a farci riflettere, a recepire la tua parola e che questa parola produca il suo frutto. Altrimenti saremo coinvolti nel grande giudizio di Dio. Con Babilonia. Babilonia cade e noi di Babilonia cadremo insieme con lei. Oh Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che permettere l'acqua, elemento di purificazione e sorridente di vita. Anche l'anima nostra veniste lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione. rinnova in noi, Signore, rinnova in noi il Santo Battesimo che ha creato in noi la vita nuova perché vogliamo vivere secondo i tuoi dettami. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Benedici, Signore, questo sale che condisca la nostra vita, ci dia il senno e la saggezza e il sapore cristiano. Benedici questo sale, Signore, tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Ti preghiamo, Re sana, con la sapienza divina, l'acqua della nostra vita e rendela saporosa. Fa che mediante questo dubbio segno di purificazione siamo riferati dall'insidio del maligno che domina in questo mondo e gira in questo mondo e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito possiamo camminare compatti verso la vita eterna. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Signore, sono qui ai tuoi piedi. Signore, con l'amore dei 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 piedi. Signore, con l Signore, solo piede viene, Signore, edo un volo a te. Signore, solo piede viene, Signore, edo un volo a te. Accoglimi, perdonami, la tua grazia, e mo' possu' di me. Signore, liberami, guariscimi, e in te il suor tu, per sempre io vivrò. Oh Padre, chiede l'agnello immolato sulla croce, fai scotolire l'eserogente dell'acqua viva. Purifica il tuo popolo, Signore. Oh Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nella macro dell'acqua con la parola della vita. Purifica il tuo popolo, Signore. Oh Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere creature nuove. Purifica il tuo popolo, Signore. Oh Dio, che radunni la tua Chiesa, spose il corpo del Signore. Benedici il tuo popolo, era viva in noi per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo del santo battesimo e la grazia della prima Pasqua. Per Cristo nostro Signore. Amen. Un popolo redento. Annunciate le grandi opere del Signore, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua immirabile luce. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, regni sempre operante in noi il mistero della pasto. Perché nati a nuova vita nel battesimo, con la tua protezione possiamo portare molto frutto e giungere alla pienezza della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio. E viveregne con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amén. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'Alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. era incinta e gridava per le dolie e il travaglio del parto. E apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio benedetta sei tu Maria fra tutte le donne, benedetta sei tu Maria fra tutte le donne, benedetta sei tu figlia davanti al Dio Altissimo più di tutte le donne e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. benedetta sei tu Maria fra tutte le donne. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore dei uomini, essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Benedetta sei tu Maria fra tutte le donne. Il Signore dà esito felice alla tua opera, a tua perenne esaltazione. con prontezza tu hai esposto la vita per sollevare il tuo popolo dall'unviazione e dall'abbattimento. Benedetta sei tu Maria fra tutte le donne. se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli dice il Signore e conoscerete la verità. Ha preso il possesso del suo regno e il Signore che il nostro Dio con il potente che il Signore sia con voi. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ove, alleluia, alleluia, alleluia. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli se conoscete me conoscerete anche il Padre fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me ma il Padre che è in me compie le sue opere. Credetemi io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro credetelo per le opere stesse. In verità in verità vi dico anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio lo farò perché il Padre sia glorificato nel Figlio. se mi chiederete qualcosa nel nome mio io la farò. Parola del Signore alleluia 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 Occorre spostare urgentemente una mano qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome io la farò. E questa mattina noi chiediamo di comprendere i segni dei tempi. di guardare attorno e comprendere i segni del Signore. Il cristiano che non sa leggere i segni dei tempi può incorrere nel direggio di Gesù che faceva ai parisei e ai suoi interlocutori voi conoscete i segni dei tempi quando fa caldo o quando il sole rosso di sera e dite che c'è tempesta o c'è montello sapete conoscere i segni meteorologici i segni del cielo ma non conoscete i segni misteriose dei cieli dei cieli i segni di Dio chiediamo al Signore di comprendere i segni dei tempi i segni di Dio ecco una donna davanti ai nostri occhi vestita di sole ed ecco un dragone che cerca di devorare questa donna e il figlio partorito dalla donna l'enorme drago che combatte contro la donna vestita di sole e la lotta tra il demonio e la chiesa sposa di Cristo e la lotta tra i figli di Maria i figli della donna i figli nati dal sangue del primo genito che partorisce la donna e la potenza della tenebra il dragone con questi angeli di verde è una lotta che dura nei tempi e che tuttora ha un momento di remuniscenza dobbiamo riconoscere questo segno dei tempi la remuniscenza del male la remuniscenza del dragone contro i figli della donna la lotta che si fa più cruenta tra il bene e il male tra i figli della luce e i figli della tenebra diceva bene Gesù quando gridava agli ipocriti ai parisei voi avete per padre il diavolo e dice bene Giovanni che in questo mondo ci sono i figli di Dio e i figli del maligno i figli del diavolo l'umanità si distingue in due parti i figli di Dio e i figli del diavolo e c'è lotta tra il mondo e i figli di Dio i discepoli di Cristo dobbiamo essere compresi di questa lotta non possiamo stare con gli occhi chiusi e dobbiamo scegliere la parte dove stare a metà a metà non si può rimanere o dall'una o dall'altra parte chi non è con me è contro di me o sposiamo la verità di Cristo e siamo dalla parte di Cristo o altrimenti sposiamo la menzogna e siamo dalla parte del maligno il quale è falsario fin dall'inizio e omicida io posto davanti a te la vita e la morte il bene e il male la luce e la tenebre scegli tu se scegli la vita vivrai se scegli la morte starai tra i morti se scegli il bene starai con i buoni se scegli il male starai con i mavaggi è tempo di scelta ognuno prenda la sua posizione come in cielo ci furono gli angeli buoni che si schierarono con Michele e gli angeli cattivi che si schierarono con l'ugivaro così anche nel mondo c'è questo schieramento dobbiamo orientarci e deciderci a mezza strada saremo in rifiuto e del mondo e di Cristo saremo nulla saremo polverizzati non ci vorrà neanche il diavolo e neanche Cristo saremo polvere della strada il vento ti sperderà come pula come polvere chiediamo al Signore la luce per decidere la volontà per decidere e dobbiamo cambiare vita ve lo dicevo poc'anzi nella neurologia penitenziale non ci inudiamo dobbiamo cambiare vita non possiamo vivere alla maniera mondana i comandamenti di Dio vivono sempre vivi sempre il comandamento dell'amore non c'è posto nel regno di Dio ce lo dice la scrittura per coloro che rubano per i malvicenti per i maghi per gli impostori per gli impuri per coloro che profano nel talamo è scritto nelle scritture da Cristo diceva già l'autore della lettera di Ogniete un autore del secondo secolo da questo noi ci distinguiamo dagli altri che abbiamo tutti in comune eccetto il talamo il talamo per noi è sacro io vorrei richiamare nel nome di Maria nostra madre alla purezza dei costumi alla purezza dei rapporti matrimoniali matrimoniali alla purezza dei rapporti tra i fidanzati alla purezza dei rapporti tra uomini e donne per i cristiani non è lecito oltreggiare il sesto comandamento e il nono comandamento che avrà guardato una donna con desiderio ha già commesso adulterio e chi usa l'uomo che usa la donna come oggetto di piacere il marito che usa la sua moglie come oggetto di piacere ha commesso adulterio perché i rapporti sono rapporti umani tra due persone uno non può essere oggetto sono due soggetti che celebrano un sacramento quando sudiscono ma noi non abbiamo compreso questo abbiamo profanato l'altare di Dio l'altare domestico l'altare della nostra vita ditela a tutti questa è la verità e lo proclamo oggi nel nome di Maria nostra madre la pura la santa e l'immacolata dice il Signore non parlare male del tuo prossimo e non ascoltare il sussurrone chi parla male del suo prossimo è in peccato non può accostarsi al corpo di Cristo perché lei è con i propri denti il corpo del Signore mangia il Cristo con i suoi denti e lo dirania e lo dirania ne possiamo ascoltare il sussurrone colui che spara del proprio fratello perché commette lo stesso peccato di chi parla Dio strapperà le orecchie la lingua di colore che il Dio non Cristo nel proprio fratello non possiamo noi direneare il corpo del Signore ascoltando parole contro il prossimo dobbiamo avere il coraggio quando uno ti parla male del tuo fratello di troncare e dire non puoi parlare male del mio fratello perché non puoi parlare male di Cristo se noi prestiamo ascolto a chi borbora a chi lei dell'onore a chi maggiulla in Cristo nel proprio fratello commette peccato più grave di chi parla perché dà modo ad un altro di maggiullare con i denti di Cristo consente nel peccato del proprio fratello e si macchia del peccato del proprio fratello quando uno ti parla male del fratello deve avere il coraggio di levargli la parola qui non ti parla di troncare io sono con Cristo e devi troncare questo discorso chi non ascolta queste parole è impeccato e chi parla male del prossimo è impeccato e chi semina discorso di fratelli commette il peccato di abominio dice il Signore nelle scritture sei sono i peccati che odi il Signore sei ma il settimo lo ha in abominio i sei peccati sono cominciamo non siamo tutti chi sparge sangue innocente ma c'è un altro più grave quello che ha in abominio il Signore chi semina discordi e tre fratelli e il peccato abominio che dia bolla e che ci elimine dal regno di Dio di quanti peccati non abbiamo coscienza perché non abbiamo cambiato testa e cambiato cuore siamo ancora pagani come diceva Paolo la lingua ci serve per dire le parole di Dio per parlare Dio o parlare di Dio e sulla nostra lingua deve risonare la triade sacrosanta cioè ciò che è bello ciò che è buono ciò che è vero tutto ciò che esce dalla lingua non è bello non è buono non è vero è peccato il nostro orecchio che è il primo organo nel nuovo regno di Dio che viene aperto nel santo battesimo con leppetà serve per ascoltare la parola di Dio la parola che dà la vita non serve per ascoltare il demonio o la parola degli uomini che danno la morte questa è verità questo è Vangelo non rubare dice il Signore noi rubiamo un po' tutti ci sono tante forme di rubare manca l'onestà tra i figli degli uomini o rubiamo la stima al fratello o rubiamo l'onore al fratello o rubiamo l'amore al fratello o rubiamo la roba al fratello siamo tutti lei cioè lei di questo comandamento che viene in franco e così ti dica di tutti gli altri sacramenti di tutti gli altri comandamenti i sacramenti che riceviamo male e i comandamenti che non osserviamo come ci confessiamo noi superficialmente quel sacramente che dovrebbe rinnovarci non ci rinnova diciamo quattro peccatucci e rimaniamo quelli che eravamo abbiamo raccontato al confessore qualche cosa ma non siamo andati in profondità abbiamo ricevuto così superficialmente i sacramenti della riconciliazione e che cosa l'abbiamo fatto dell'eucaristia come l'abbiamo ricevuta l'eucaristia ci ha cambiato se l'eucaristia non ci cambia se noi non siamo quelli che assumiamo l'eucaristia non è fatta in effetti noi che ne diciamo di tante persone che mangiano ogni giorno l'eucaristia e restano sempre uguali come prima segno che l'eucaristia non viene ricevuta con frutto non c'era efficacia del sacramento quando quel sacramento non produce la morte o non produce la malattia come succedeva a Corinto per questo in mezzo a voi ci sono molti ammalati e parecchi muoiono prematronamente perché non distingue il corpo del Signore mangia del corpo del Signore come di qualunque altro pane cari Corinzi succede questo anche a voi tanti di voi siete ammalati tanti di voi muoiono cari Corinzi per abuso dell'eucaristia e dove sono i comandamenti di Dio amerai il Signore di Dio con tutta la mente tutto il cuore e tutte le forze amerai il prossimo tu come te stesso dov'è il mio giorno dice il Signore andate a divertirvi nel mio giorno prendete per voi il mio giorno che è la domenica lo prendete per voi per divertirvi quello è il giorno mio non è il giorno vostro avete sei giorni per lavorare ma quello è il mio giorno serve per santificare il mio nome serve per ispirare nella legge di Dio quello è il mio giorno che mi avete rubato e dov'è l'onore che voi prestate al padre e alla madre per questo vi ammalate perché non rispettate il padre e la madre e non avete lunga vita sulla terra e quella è la vita della vostra famiglia chi domina la vostra famiglia e la fede e la luce di Cristo oppure sono entrati gli emissari del drago invernale qual è la stampa che leggete qual è la televisione che vedete non vi accorgete che le vostre pareti domestiche sono inquinate sono infestate non chiamate non chiamate se giardote per benedire quando attraverso la televisione voi continuamente infestate l'ambiente quando i vostri pensieri e i vostri costumi non sono corretti queste cose vi dice il Signore e allora fratelli e sorelle preghiamo Maria nostra madre oggi 13 maggio perché apparisca nel santuario nostro lei che è l'arca dell'alleanza apparisca nella nostra famiglia questo santuario apparisca nella nostra società l'arca dell'alleanza rivolga ancora questa madre vestita di sole con le 12 stelle sul capo facciamo festa a Maria introduciamo la nostra vita schieriamoci con lei combattiamo con lei la grande battaglia contro il nemico che avanza il nemico che è immerso nel piacere e vuole immerserci nel piacere il nemico dall'avere e ci immerge non avere il nemico che vuole il nostro successo mondano e ci trascire alla morte il nemico delle tre grandi congupiscenze colui che ha le tre maschere con cui ci seduce camminiamo camminiamo con Dio all'insegna di Maria nostra madre schieriamoci con lei con lei e combattiamo con lei la grande battaglia per vincere perché la vittoria è nostra e per trionfare un giorno quando i cieli si apriranno e i figli dell'uomo verrà per giudicare i vive e i morti e metterà i buoni a destra e i cattivi a sinistra malederà i cattivi che saranno spropondati dall'inferno con gli angeli rivelli e trarrà con sé i buoni in cielo dicendo venite benedetti del padre mio a possedere il regno e allora si concluderà la storia del regno e listerà l'eternità senza storia amén prestiamo la nostra preghiera universale preghiamo il buon rio che c'è la man di buona che ci dia tanta luce e tanta forza preghiamo per noi tutti i malati nel corpo e nello spirito preghiamo per tutti quelli i quali si raccomandano a questa comunità di oranti signore ti presentiamo tutte le altre persone che hanno deposto in questi cestini le loro stupide e ti preghiamo così generalmente per la nostra patria per l'Italia signore ti chiediamo che l'amore ritorne tra gli uomini tra gli italiani ritorno nell'amministrazione della giustizia è scritto che la verità partorisce odio quando si fa verità si fa scattare l'odio a meno che non si osservi la regola evangelica verità in carità per la gente quando si fa verità nell'amore allora la verità rende liberi ma quando si fa la verità non nell'amore la verità partorisce odio tra le classi tra la gente tra accusati e accusatori l'unico modo perché la verità che bisogna farla non partorisce odio e distruzione e fare alla maniera evangelica come dice Paolo veritatem in caritate facendiches fate la verità nella carità e siccome non c'è la carità tra gli uomini siccome non si osservano le leggi della carità nella giustizia il fare giustizia comporta odio tra le classi tra categoria tra uomini e uomini chiediamo al Signore innanzitutto la carità perché anche la carità è un po' come me la giustizia che deve fare verità e allora ci sarà la libertà e non l'odio per questo o Signore noi ti suffichiamo la carità la carità è un po' come me si è un po' come me Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Eppure c'è in mezzo a voi uno più di giorno Signore tu ci offre ancora una volta l'esempio delle diritte Essi fecero peritenza Si convertirono e giunerano e Dio clemente misericordioso Il suo loro indigenza e furono salve Signore dichiariamo che noi popolo di Nive siamo salvi per la tua misericordia Lo dichiariamo che la tua parola, la parola del tuo barco scende dentro di noi, ci dia luce e vita Amin La mia voce esparce Amin 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 Grazie a tutti.